SILENTI UCCI Oh, guarda chi c'è sta. Ciao Martino, dove? Ciao Martino, ciao. Allora, vieni qui. Lo sai che io e te ci abbiamo un corso speso, eh? Lo sai? Vai la testa qua. Vai là. Dai, eh. Dai educarci. Vai, alzati, eh. Guarda che ci rivediamo tanto, eh! Continua a riprendere. È proprio uno sfigato. Grazie a tutti.